Ciao tribù, sono Cecilia Sardeo, autrice del libro Insicure di Successo, già per notabile online dal link che trovi qui sotto, è disponibile in libreria a partire dal 24 settembre 2019. E a proposito di insicurezza, dicono sia una caratteristica tipicamente femminile. Non so se sia vero, però io questa aspettativa l'ho abbracciata in pieno. Ho messo in dubbio per anni le mie capacità, le mie intelligenza, il mio corpo, le mie probabilità di riuscita, e so di non essere la sola. È un po' come se ciascuna di noi fosse affetta da questa insicurezza cronica che inevitabilmente si traduce in questo tentativo disperato di apparire perfette agli occhi degli altri. Nel tentativo di raggiungere una vita ideale in cui non facciamo errori e possiamo sempre essere apprezzate con la vita che non esiste. Certo è bello piacere a tutti, è parte della nostra natura e non certo solo quella femminile, il desiderio di sentirci accettati. E quando questo non avviene, per qualsiasi motivo, ci sentiamo a disagio. Il problema è che non solo ci stiamo battendo per una causa persa, ma così facendo la nostra felicità, la nostra serenità, diventano funzione di una variabile totalmente fuori dal nostro controllo, visto che non abbiamo alcun potere sulla percezione che gli altri avranno di noi. Come usciamo allora da questa ridicola ricerca di un ideale che non esiste e che ci toglie così tante energie da arrivare quasi a paralizzarci? Per una volta credo che la risposta sia una sola. Puntiamo al progresso invece che alla perfezione. Ambire a raggiungere la perfezione è un po' come cercare di afferrare l'orizzonte. Abbiamo questo ideale che usiamo come metro di misura per dare un numero al nostro valore, solo che l'ideale si sposta continuamente nel tempo, come l'orizzonte fa nello spazio, e ci lascia puntualmente con in mano un pugno di mosche, o due. Perché la perfezione non esiste e per fortuna, sai che palle vivere una vita sempre perfetta? Diventeremo dei rammolliti. La vita è sfida, è esperimento, è inciampare per poi imparare piano piano a rialzarci ogni volta un po' più sicuri. E sì, a volte ci potrebbe volere più di quanto abbiamo previsto per arrivare da qualche parte, altre volte potremo finire da tutt'altra parte e potremo renderci conto che la nuova meta non è mai così male. Abbracciamo chi siamo, è proprio la nostra imperfezione a renderci uniche. Se qualcuno si prende gioco di noi, e sia, se tutti ci facessero solo complimenti, non troveremo mai la motivazione per crescere. È vero che se non rischiamo non possiamo fallire, ma abbiamo anche perso in partenza la probabilità di riuscire. E allora facciamoli questi errori e lasciamo andare il desiderio di avere controllo totale sulla nostra vita. Puntiamo ai piccoli progressi e impariamo da ogni passo, sapendo che non c'è fine alla migliore versione di noi stessi. Le persone apprezzeranno la versione più autentica di noi, ma prima devono vederla uscire. Oltretutto, non sapremo mai che altro si nasconde dietro la maschera della perfezione ed è pronto a liberarsi. La nostra rivoluzione potrebbe innescare anche quella di qualcun altro. Il coraggio non è qualcosa che possiamo fingere di avere grazie a qualche affermazione positiva, a un vestito elegante. No, è qualcosa che possiamo acquisire solo attraverso un'azione costante, dunque mettendoci in gioco, soprattutto partendo dalle piccole sfide. E questo è qualcosa che possiamo fare tutti. Il vero coraggio non è buttarsi da una macchina in corsa, ma la capacità di procedere a piccoli passi nonostante la paura. Riconoscere che quello che non sappiamo è molto più di quello che sappiamo già. Che ogni persona può insegnarci qualcosa, che nessun piano è perfetto, che il risultato non dipende da noi, o almeno non solo da noi, ma da noi dipende la determinazione a procedere. E che più ci apriamo ad imparare qualcosa di nuovo, più ci sentiremo incompetenti, ma prima potremo riuscire a scoprire qual è la direzione che davvero vogliamo seguire nella vita. E magari a volte ci renderemo conto di aver sbagliato tutto, ma almeno ora sappiamo che possiamo cambiare le cose e migliorarci. Nulla ci è dovuto, ma molto può essere conquistato se siamo pronte, con coraggio, a rimboccarci le maniche. E allora 3, 2, 1, la parte più bella comincia ora. Condividi qui sotto la frase, oggi scelgo il coraggio, poi mettiamoci al lavoro perché la vita non aspetta. Prima di lasciarti sono entusiasta di annunciare che il mio primo libro in sicure di successo è già prenotabile online dal link qui sotto e sarà disponibile in libreria a partire dal 24 settembre 2019. Insieme impareremo ad andare oltre il giudizio e le aspettative degli altri, ma perlomeno ci proviamo. Valorizzeremo i nostri dubbi, le nostre debolezze, cercheremo di trasformare i fallimenti in opportunità e scopriremo in tutto questo una forza che non pensavamo nemmeno di avere. Con i sicure di successo ribaltiamo la prospettiva e scopriamo finalmente che abbiamo già tutto quello che ci serve. Che è il momento di definire il nostro valore non in base al risultato che otteniamo, ma al coraggio che abbiamo di mostrarci ogni giorno riprovandoci un passo alla volta.